All'orizzonte due trasferte tremende per palla canestro Biella. La sconfitta, più netta nel gioco che nel punteggio sul campo dell'Uragna Milano, non deve lasciare strascichi. Certo, la vittoria nello scontro diretto e il successivo bis contro Torino ha tolto i meneghini dalla zona bassa della classifica. La corsa, per evitare i play-out, sembra ridotta, ora come ora, al terzetto formato dalla stessa Biella, da Capodorlando e dalla Becari Piacenza, tutte in due punti. Stasera i Rosso Blu scenderanno in campo proprio a Piacenza, ma contro l'altra squadra cittadina, la Sigeco, decisamente più forte e strutturata. Ad essere precisi, il Palabanca è soltanto il palcoscenico su cui la Sigeco si esibisce, avendo la sede operativa a Codogno e quella legale a Casal Pusterlengo, nell'Odigiano, sulla riva opposta del Po. Caso più unico che raro, ma nemmeno troppo, pensando che la stessa Tortona ha giocato per anni a Voghera. Ma questi sono dettagli, quel che è certo è che servirà una grande Biella per tornare dall'Emilia con la vittoria. La Sigeco ha aperto il 2022 con sei sconfitte in nove partite, un calendario certo difficile, ma le vittorie sono arrivate solo contro le ultime della classe. La più recente contro la Derelitta Orzinuovi, un 117 a 79 che vale poco, se non per il record di triple messo segno da Luca Cesana, che ha battuto quello precedente realizzato da Alan Vosquil quando vestiva la canotta di Biella. Era il marzo 2014 contro Iesi, una vita fa. La coppia americana è formata da Devo e Kerr, in cabina di regia c'è il play Gerardo Sabatini, supportato da Gaic. Reparto lunghi, mica male, Galmarini, Sec, Guariglia, immarcabile all'andata con 17 punti e 17 rimbalzi, ma anche Davide Pascolo, uno che nello scorso decennio ha calcato scene prestigiose in Italia e in Europa. Sarà una gara speciale per coach Zanchi, legato per tante stagioni all'Assigeco e al suo florido vivaio, con discrete soddisfazioni, ma anche per gli ex Infante ed Esbruck. Se stasera sarà difficile, domenica sarà peggio. Nove anni dopo Biella tornerà in Brianza per sfidare Cantù, non più allo storico Pianella, ma nel più moderno impianto di Desio, una settimana decisamente critica.